Allora, tutti quanti i giornali hanno la stessa interpretazione, quasi tutti, sulla manifestazione che è avvenuta l'altro giorno e la reazione della polizia. Fra un po' si sente, non vi preoccupate, adesso arriverà a sentirsi perché mi sembra che ci sia esatto, adesso si sente. Un fallimento i manganelli contro i ragazzi, ha detto il Presidente della Repubblica, Mattarella. Complimenti, bravo Mattarella, hai detto una cosa intelligente, una cosa molto importante, sono ben orgoglioso di avere questo Presidente della Repubblica che dice che è un fallimento i manganelli con i ragazzi, punto primo, te ne sei accorto solo oggi che ci sono i manganelli, punto secondo, quelli sono i ragazzi, i collettivi sono ragazzi, potremmo anche dire un fallimento le carceri dove ci sono 90.000, 80.000 persone, un fallimento il fatto che nelle carceri ci sono 30.000 persone che non sono state ancora giudicate, ci sono tanti cazzo di fallimenti, ma oggi il fallimento è, come dice giustamente Repubblica, perché il titolo più giusto è quello di Repubblico, lo sdegno di Mattarella. Vedete, poi la polizia, i capi della polizia hanno messo del loro, io non sto con i capi della polizia, non me ne fotte nulla dei ministri e dei capi della polizia, io sto con i poliziotti e con quelli che stanno in piazza. Quello che è successo è che ci sono state 1100 manifestazioni pro Hamas e all'interno di queste manifestazioni oltre ai ragazzi, oggi ho letto in un giornale i miei bimbi, questi genitori che sono disperati dei loro bimbi che vengono menati dai poliziotti, punto primo, se sono bimbi a 17 anni avete un certo problema con i vostri figli, punto secondo siete dei rincoglioniti perché se sono dei bimbi andate voi a manifestare e non lasciate i bimbi a manifestare perché i bimbi non vanno da soli neanche in metropolitana. Punto terzo, vecchioni e tutti quelli che oggi si mettono a piangere, nel 2015, ma vi ricordo un'ultima delle cose, quando i bimbi vostri della straminchia venivano menati davanti alla festa dell'unità di Bologna e alla festa dell'unità si beccavano le manganellate in faccia perché volevano entrare a rompere i coglioni al presidente del consiglio dell'epoca, il sindaco del PD Renzi e li manganellavano giustamente perché non potevano entrare là dentro e loro volevano sfondare le recinzioni, c'è qualche mattarella della straminchia che ha parlato, c'è qualche presidente e c'è qualche vecchioni che si è messo a piangere per i manganellati, anzi Bonaccini all'epoca, nel 2015, giusto tutelare la sicurezza, tutelare la sicurezza del festa dell'unità del 2015 va bene, tutelare invece la sicurezza di una sinagoga che non doveva essere violata da una manifestazione non autorizzata, forse quello non va bene, perché il punto fondamentale è manifestazione non autorizzata, collettivi, violenti, immagini che si possono vedere che poi sono state cancellate su Twitter di che cosa dicevano i poliziotti e di quanto li insultavano e poi, sbagliato, non lo so, ma la reazione dei poliziotti di alleggerimento è diventata oggi il tema fondamentale della dichiarazione di Mattarella. Vorrei sapere un'altra cosa e lo vorrei chiedere a tutti quanti i consiglieri di Mattarella, a tutti quelli che ci invitano, a me non sono mai stato invitato, al 2 giugno c'è la festa della Repubblica e Mattarella, nella festa della Repubblica invita questo piccolo circolo verdurende i morti di fama dei politici che vanno con le loro fidanzate improbabili che arrivano dalle province improbabili tutte contente, vestite a festa per andare dal cazzo di Presidente della Repubblica il 2 giugno, come se fosse un rito monarchico in cui c'è la corte che si presenta dal re sole, quando vanno questi qui al 2 giugno a trovare il re, cioè Mattarella, prima di lui tutti gli altipresidenti e là fuori mettiamo dei collettivi o dei bimbi della straminchia che gli tirano le uova oppure che vogliono entrare al Quirinale loro stessi, che cosa dovrebbe fare la polizia secondo Mattarella? Se qualcuno volesse entrare al Quirinale, cosa cazzo dovrebbe fare la polizia? Spiegatemelo, perché ho visto De Luca che insulta i poliziotti che mandano i pinguini perché voleva entrare nelle istituzioni e non lo facevano entrare, ho visto i poliziotti che vengono insultati perché si difendevano in piazza dagli attacchi sempre e comunque di questi collettivi del cazzo a cui regalano le case occupate, quindi dobbiamo un po' deciderci, a Scatasuna può prendersi e occuparsi una casa per decidere che è sua perché il sindaco gliela dà, i ragazzi possono andare, i bimbi possono andare in piazza a menare i poliziotti, i poliziotti devono fare pippa perché sono pagati 1.300-1.400 euro per fare pippa mentre i figli dei loro genitori dell'astrocazzo possono poi dire vedi è stato uno svegno, io non ho parole, non ho parole, è imbarazzante il 90% della stampa italiana che oggi commentava con Mattarella e della politica italiana che quello che ha fatto la polizia ieri è stato indecoroso, com'è che si dice oggi Repubblica concita, l'ultima volta che è intervenuto un Presidente della Repubblica è stato Ciampi al G8, era un po' diversa la questione del G8 se permettete rispetto a quello che è successo ieri, un pochino diversa, e poi l'altro pellegrino manganellare studenti inermi e identificare le persone come è venuto l'altro giorno per andare a portare un fiore a Navalny, innanzitutto manganellare gli studenti inermi non è vero perché non sono studenti inermi, ci sono i collettivi, basterebbe ricordarselo, secondo Navalny è identificare quella persona, volerebbe dire identificare qualcuno che stava compiendo un atto esattamente simile a quello che oggi vuole il governo, deve essere filo russo, non riesco a capire che cazzo di ragionamento c'è, aggiungo che tra gli identificati c'è un ex brigatista rosso che voglio dire molto amico di tutti i nostri, come possiamo dire, metrapense del giornalismo, io sì sto anch'io con piente dosi, però si faccia sentire, faccia capire che quello che succede è che la polizia ha fatto 1100 manifestazioni, compresa quella che c'è stata ieri a Milano, in cui come dice giustamente il tempo, odio rosso in piazza, in cui al corteo della pace di Milano c'erano le sagome di ministri con il volto insanguinato, con i poliziotti, senza sé e senza, ma avete rotto i coglioni, se voi andate a manifestare con i cortei dei collettivi sono cazzi vostri, va bene? Stupendo oggi Aldo Grasso, perché Aldo Grasso si accorge di una cosa di cui pochi si erano accorti, ma voi zuppisti ve la ricordate, cioè che all'Eurovision stanno boicottando la cantante israeliana e perché dicono la cantante israeliana sta facendo delle canzoni che evocano il 7 ottobre e quindi non può venire e oggi stupendo, Grasso per paradosso sul Corriere della Sera, prima pagina, ve lo consiglio, dice esattamente il contrario, dice Gali, tu che hai fatto il fenomeno contro il genocidio dovresti essere il primo invece a volere la cantante israeliana che possa pretendere, possa dire e possa urlare il suo orrore. Ranucci da Gramellini ieri sera ha detto che il fatto che la manifestazione non fosse autorizzata è risibile, no, ma certo questo è un paese che tutte le cose non autorizzate che loro che cazzo gliene frega. Devo dire la verità che poi invece è il paese in cui Vannacci per tre scontrini di quattro anni fa finisce indagato dalla procura militare per possibile truffa, una cosa pazzesca, chi la palla la tocca meglio di tutti? Sallusti che ha il dente un po' avvelenato con il ministro Crosetto che vi ricorderete ha querelato il giornale, devo dire una follia da parte di Crosetto e dice Crosetto si è comportato come quelle procure politicamente politicizzate, il ministero della difesa Crosetto si è comportato come quelle procure politicizzate che per fermare il politico sgradito gli vanno addosso con un'accusa infamante per la quale se viene assolto comunque il danno è stato fatto, se non viene assolto meglio così, quindi quello è un ministro dell'accusa o dei veleni, è incredibile questa cosa di Vannacci che viene candidato o rischia di essere candidato e gli vanno addosso con accuse veramente incredibili. L'altra cosa, Mauro Mosetti dice, cosa sfugge nella lingua italiana a una manifestazione non autorizzata? Nel frattempo ci sono le elezioni sarde oggi e le elezioni sarde oggi, devo dire che è sempre divertente il giornale del Movimento 5 Stelle, è chiaramente il giornale del Movimento 5 Stelle oggi se voi leggete Travaglio mette le quattro opzioni di possibile voto, ovviamente lui sta per il voto dell'ex sottosegretario del Movimento 5 Stelle che è candidata contro l'ex sindaco di Fratelli d'Italia di Cagliari che ha scalzato il posto di Solinas e diventerà il candidato ufficiale di tutta la destra, Travaglio più importante delle europee sono queste elezioni sarde, dove il Movimento 5 Stelle cresce e Conte è sopra alla Schlein come sondaggi, però il partito non riesce a superare il Partito Democratico e il Partito di Conte non supera il Partito Democratico perché al sud c'è l'astenzionismo, questa è la lucidissima analisi di Travaglio che è poco filo Conte e poco filo Movimento 5 Stelle, è più filo 5 Stelle di quanto gli altri giornali, con i desti e di sinistra, solo filo i loro partiti perché gli altri alcune volte qualche critica la fanno, quello è filo 5 Stelle in una maniera imbarazzante, però dice che queste elezioni sono importantissime perché potrebbero far vincere la candidata del Movimento 5 Stelle e cambiare completamente le sorti di questo governo, non diverso il ragionamento ma molto più equilibrato, molto scritto meglio, molto più ragionato di Stefano Cappellini oggi sulla Repubblica che dice che nelle elezioni regionali hanno comportato rischi per i governi, basti ricordare quello D'Alema e quello Berlusconi e anche cambi di segreteria per segreteria che hanno perso le elezioni, quindi non sottovalutiamo le elezioni di oggi. Poi ieri la premia era data Kiev, non c'è stata la riunione del G7, Macron alcuni dicono mi sembra la verità perché gli hanno rotto le balle, gli agricoltori in casa non volevano che facesse inutili passirelle, quello che la Meloni ha ribadito che con Kiev senza se e senza ma e no al caos mondiale, questa è casa nostra e la difenderemo. Intanto il messaggero in prima pagina parla di un fatto di cronaca di Milano pazzesco, di una ragazza studentessa a ventenne stuprata fuori da un locale pubblico, da un italiano di origine egiziana, chiamatelo come cazzo vi pare, da un immigrato di seconda generazione e dà un po' il senso anche perché qui a Milano è la settimana della moda del grandissimo casino sulla sicurezza in questa città col sindaco Fufru che pensa ai diritti degli LGBTQ, cosa sacrosanta, magari si occupasse anche dei diritti delle ragazze che vanno in discoteca e che vivono in un'insicurezza totale. Molto interessante, è una mia fissazione, concludo con questo perché non mi parte il volo, la questione dei passaporti è l'unico paese al mondo che per avere un passaporto a parte forse Cina, Russia, paesi di cui non vorrei vivere, ci vogliono 8 mesi. Allora dovete pensare che la libertà di movimento e la possibilità di andare in un altro paese, ovviamente non in Europa ma fuori dall'Europa grazie a un passaporto, è una libertà non solo tutelata dalla Costituzione, ma è una libertà garantita dai diritti civili dell'Occidente da almeno 400 anni. L'idea che in Italia per uscire tu debba avere un passaporto e ci debba mettere 80 giorni è una cosa che grida vergogna. Questo è un paese illiberato, un paese che diventa illiberale per la burocrazia e non un paese che diventa illiberale per delle manganellate nei confronti di persone che stavano manifestando non autorizzate e il cui unico scopo era andare a rompere il cazzo a una sinagoga dove non dovevano entrare, soprattutto in questo momento e soprattutto con i loro vessilli di Hamas che riescono sempre a tenere ben celati fino al momento giusto. Direi che per oggi è tutto, io torno a Roma, ci vediamo questa sera, no, ci vediamo domani con Quarta Repubblica e con la zuppa di porro domani. Ciao! 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 ! Ciao! Ciao! Ciao!